Come amministrazione anche io personalmente siamo molto soddisfatti di questa vittoria al Tar per il ricorso che abbiamo fatto nei confronti di un provvedimento della sovrintendenza che imponeva un vincolo nei confronti di piazza Plebiscito. Un risultato importante, un ricorso difficile, sofferto ma evidentemente assolutamente doveroso nell'interesse della città. Mi auguro che adesso cessino gli ostacoli ingiustificati al progetto di città che abbiamo in mente, che viene ripercorso tra l'altro anche nelle motivazioni del Tar, cioè che i luoghi pubblici devono essere vissuti, sono beni comuni, sono spazi da valorizzare e che devono essere vissuti dai cittadini e dai turisti. Ovviamente nell'ambito di una leale collaborazione tra istituzioni a cominciare dalla sovrintendenza. Qual è il margine di azione del Comune? Cosa si può fare? Fino a che punto poi non c'è la sovrintendenza che mette dei veti? Nel senso cosa adesso potrà fare il Comune? Si può fare tutto ciò che porta alla valorizzazione di una piazza, dai concerti ad attività anche economiche, a riqualificazione. Non si può deturpare, non si può saccheggiare, ovviamente non si può mutare la destinazione, ma questo non è stato mai in discussione. Invece si possono fare concerti, si possono fare attività economiche, attività di valorizzazione, anche per ottenere risorse, per riqualificare la stessa piazza, che è una piazza, come si può leggere anche negli atti del procedimento giudiziario, una piazza spenta, una piazza che deve vivere. Quindi abbiamo perso tanto tempo inutilmente. Ecco, mi auguro che non ci sia più questo atteggiamento di ingiustificato ostacolo a un progetto di città che abbiamo fortemente voluto e col quale ci siamo anche presentati tre anni fa alla città per prendere i voti. Quindi nell'ambito delle attività legittime si va avanti. Il Tarre riconosce l'assoluta legittimità del nostro operato e l'illegittimità dell'operato di altri. Per la qualificazione del colonnato c'è di mezzo anche la Curia, però dialogherete anche con loro? Certo, noi dialoghiamo con tutti e quello è un progetto che sta andando avanti molto bene con la Prefettura, con il FEC, Ministero dell'Interno, con la Curia e il Comune. E contiamo nei prossimi giorni di chiudere anche la valorizzazione finalmente di un'altra area importante della nostra città, l'ipogeo, il porticato, le attività economiche tradizionali da riportare in piazza. Quindi questa è veramente una boccata di ossigeno, entusiasmo, ringrazio tutti quelli che non hanno mollato, hanno continuato a spingere per venire a Napoli. Quindi a questo punto di vista ci sarà un ulteriore grande rilancio della nostra città.